Coraggio, Timmy! Cantiamo tutti insieme la canzone degli scoiattoli! Siamo Scouts, siamo scoiattoli! Per le noce andiamo pazzi! Sugli alberi saliamo, le ginocchia ci spegniamo, il sederino ci vediamo! Ho cognato nuovi versi! Il nostro motto è arrendersi mai, non cedere neanche di un metro! Tra le piante velenose, fumo e fuoco, nessuno scoiattolo tornerà mai indietro! Ha detto di dietro! Non prendere appunti! Attenti ragazzi, vi presento la nostra nuova compagna Scout, Chloe! Ha un nome da ragazza perché è una ragazza! E' una ragazza! Ho sentito dire che se la tocchi avrà il controllo del tuo cervello a vita! Sì, è vero, è vero! E saremo divorati da Piedone il Puzzone! Ma vuoi smettere di dire cretinate, Ricky? Sei veramente un fifone, Ricky! Piedone il Puzzone non esiste! Ok, chi deve cambiarci le mutande? Solo io? Mi piace passare il tempo con Chloe e Timmy, ma questo posto fa schifo! Non preoccuparti, piccola, ho un'idea grandiosa! Tadà! Siamo stati mangiati da un orso! Molto meglio che fare campeggio! Sì, hai ragione! Guarda, ma che bel ruscello! Vediamo quanto è profondo! Ah, mi sa che è un acido dello stomaco altamente corrosivo! Ah! L'orso deve aver fatto indigestione! Dobbiamo uscire di qui prima di finire corrosi! Ammetti, Lovanda, questo dettaglio ti era proprio sfuggito, non è vero? Ok, i miei valorosi scoiattoli ad un'ata! Sabbie mobili Un'ape mi ha appena puntato sulla lingua! Mi sono perso! Siamo tutti qui! Ehi, rilassatevi ragazzi! È ora di conquistare quel distintivo! Non dobbiamo fare altro che scegliere una specialità dal manuale! Io, se siete d'accordo, propongo l'arrampicata! Fatto! Mi sono arrampicato su una roccia! Si torna a casa, ragazzi! Dico sul sedio, non prendere appunti! Forza! Concentratevi! Se vogliamo davvero un distintivo, dobbiamo scalare il monte di Piedone e Puzzone! Su, è pieno di dolci! Uh, favoloso! Quelli al cioccolato mi fanno impazzire! Sto arrivando! Hai visto? Avevano solo bisogno di essere motivati! Ma tu hai mentito sui dolci! No, mio caro! Li ho portati su in cima mentre voi stavate litigando con le pende! E dopo ho sistemato la tua! L'ho toccata! Ora controlla il mio cervello! Non c'è molto da controllare, Ricky!